No questo è un record Restando in tema dato che stasera andiamo all'evento di Mulac Andiamo di Lipsio Questo è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto di Mulac A me brucia troppo No ma è pazzesco A me fanno impazzire sti cosi che bruciano Ma fa le labbra giganti Mi sembra un labbra troppo potente No io adoro Ma questo è talentissimo questo ti fa venire veramente Le labbroni troppo No è stupendo provalo dopo ti giuro è stupendo Perché io ho le labbra super bianche E quindi mi piacciono Questo te le coloro pure Te le coloro pure Fai a me provare questo Dai Tutto tuo Lo senti Ce l'hai dopo 5 minuti Canotti E ti esplode Canotti Cari Jenner Chi? Ciao Comunque ho indicato con Pomenal Prima si stavano menando Un pochino Boh Sì 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 Dai è giusto Allora la base dell'outfit sarà questo Mamma se stai guardando questo video Sì è tuo Sì l'ho preso senza tu permesso Il corzetto è questo L'armadio di mamma ci riserva sempre tantissime perle Adesso sto decidendo se mettere questi Orchini qui Oppure Questi